Ciao a tutti! Oggi vi voglio invitare alla presentazione dell'Almanacco Casalese 2018. Quando avverrà? Domani, mercoledì 1 maggio 2019, alle ore 15.30, presso il Teatro La Fabrica, a Villa Dossola, all'interno del Salone del Libro del VCO, cioè la Fabrica di Carta. La pubblicazione è importantissima, poiché potremmo definirla una sorta di esperimento sociale o esperimento comunitario. Ha l'obiettivo di dividere le fatiche che dovrebbe fare un singolo autore storico locale, che dovrebbe iniziare un grande lavoro di ricerca della storia con la S minuscola e poi delle memorie, dividendola fra la popolazione, quindi mettendo al centro il valore dell'essere uniti, del lavorare insieme. Ecco, questo è il grande pregio di questo primo volume dell'Almanacco Casalese. Durante la presentazione di domani racconteremo non solo il paese, racconteremo anche anedoti, storie, ma faremo raccontare anche dagli amici di Casale, perché sì, oltre alla comunità hanno lavorato delle persone che non sono di Casale Cortecerro, non abitano a Casale Cortecerro, non sono residenti a Casale Cortecerro e non sono neanche oriundi, ma hanno deciso di dare una mano alla stesura di questa opera con il loro sapere, il loro contributo semplice, spontaneo, dove si vede anche delle diverse competenze, dall'archeologia al marketing, al marketing territoriale, alla storia locale a 360 gradi. E un piccolo ricordo anche a uno degli autori, Dorino Tunitz, che è mancato pochi mesi fa e il cui ricordo ci lega a tutti indissolubilmente. Quindi vi ricordo domani, primo maggio 2019, alle ore 15.30 a Villa Dossola.